Oria, 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 oria. Non credevamo fosse possibile e invece si ritorna live Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare seguiteci in diretta questa sera a Ponte Corvo in piazza Giovanni Paolo II concerto di Luca Bassanese la piccola orchestra popolare e si torna al live tour 2022-2023 vi aspettiamo un abbraccio a tutti amori microchip preti senza lì pensieri locosi in frigo riferino prato wow 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 together! hola 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 trinchi coca cola tu sei superman tu hai venduto Peter Pan hola 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 trinchi coca cola tu sei superman tu hai venduto Luca Bassanese la piccola orchestra popolare vi aspettiamo un live tour 2022-2023 ciao